E qualche settimana fa arrivava il nuovo colore dell'Icarus DP Mini che si aggiunge ormai anche alla penna tattica e alla torcia di 5-11 e il Dark Navy. Questo coltellino di 5-11, sempre utile, lo porto anche adesso in tasca, economico, prestante, funziona come si deve, si apre che è un amore. Beh, quello che devo presentarvi oggi è il fratello maggiore, Icarus DP Full, di pista per Drop Point, vedete anche voi che è la lama che la punta a questo design qui. La vera differenza ragazzi è la lunghezza della lama che da 7 cm passa a quasi 9 cm, 8.89. Anche il DP Full si apre così stilosamente ed è disponibile per il momento Nero e Coyote, mentre il DP Mini è disponibile in Nero e Coyote e questo fantastico Dark Navy. E si aggiungono a tutti i coltelli di 5-11 e a tutti i nostri chiudibili.